Attilo di Omnibus, vado subito a presentare gli ospiti di questa mattinata, parto dalla direttrice di Left, Simona Maggiorelli, buongiorno. In edicola con il nuovo numero di Left da ieri, in edicola la prima pagina o partigiano mandali via, insomma con la citazione, a Bella Ciao, poi ci spiegherà anche il motivo di questa copertina. Vicino a lei c'è Mario Olavia. Buongiorno. Buongiorno. Alla mia destra invece è Salvatore Merlo, il foglio, buongiorno. Buongiorno, ciao. Alessandro Sanzoni. Buongiorno. Vedo collegato invece sociologo, mediologo, Massimiliano Panarari, buongiorno. Buongiorno e grazie. Buongiorno anche a lei. Allora, prima di cominciare, insomma, vi è restata una giornata, è una settimana da mercoledì, insomma caratterizzata dalle condizioni di salute di Silvio Berlusconi e da tutte le parole, tra poco ci collegheremo con il San Raffaele, insomma anche il mondo politico italiano, insomma abbastanza in subuglio per capire quelle che sono le condizioni del Cavaliere, ci dirà tra poco Carmelo Schirina, le ultime. La notizia di ieri per il mondo politico è che dopo 42 giorni dalla sua nomina è arrivata finalmente la segreteria del Partito Democratico, l'ha annunciato ieri sui social Elish Line, vedremo anche oggi sui giornali, insomma, l'elenco della segreteria tra facce nuove, diciamo, e vecchie conoscenze. Però prima di parlare di tutto questo vi voglio aggiornare su quanto è successo ieri sera a Tel Aviv dove un turista italiano, Alessandro Parini, 35 anni, di Roma, è stato ucciso in un attentato compiuto con un'auto lanciata sulla folla sul lungomare della città israeliana, tra poco potremo vedere anche le immagini. Non lontano, ecco, stiamo vedendo dall'ambasciata italiana, Parini era con altri suoi amici in vacanza per il periodo pasquale a Tel Aviv. Nell'attacco ci sono sette feriti, tra quali i britannici e altri due italiani che non sono gravi. Messaggi di vicinanza alla famiglia della vittima da parte di tutto il mondo istituzionale e politico. Anche la Premier Giorgia Meloni ha manifestato il suo profondo cordoglio per la morte di Parini, ha espresso vicinanza alla famiglia della vittima, ai feriti e solidarietà allo Stato di Israele per il vile attentato che ha colpito Israele. Ieri ha vissuto una giornata molto complicata, come tutta quanta la zona del Medio Oriente. Ci sono stati degli scontri, sia per quanto riguarda la striscia di Gaza, bombardate le basi di Hamas. Hamas che ha rivendicato l'attentato di ieri, dicendo che è stata un'azione ben riuscita. Gli attacchi di Hamas in questo periodo si stanno anche susseguendo. Vi daremo poi informazioni per quanto riguarda questa notizia, se verranno all'interno del dibattito. Ma io vado a collegarmi subito con Carmelo Schirina davanti alla San Raffaele. Oramai è piantonato davanti al San Raffaele e Carmelo Schirina da mercoledì. Carmelo, dici le ultime. Ieri è stata la giornata dell'ottimismo, visto le voci che sono arrivate, sia per quanto riguarda i familiari, che per quanto riguarda Fedele Confalonieri, che è andato anche ieri a far visita al Cavaliere. Ci sono altre informazioni? Sono previsti dei bollettini? Buongiorno Andrea. Ufficialmente non è previsto un bollettino, ma sappiamo che ieri Sergio Berlusconi è stato sottoposto a nuovi esami, ha fatto un'attacca perché per i medici è fondamentale, ieri erano le 48 ore dal suo ingresso in terapia intensiva, quindi per i medici era fondamentale capire bene il funzionamento degli organi, lo stato di alcuni organi, tra cui cuore, polmoni e reni principalmente. C'è un'insufficienza renale in parte rientrata, c'è e sappiamo una polmonite acuta, molto brutta, che ha davvero messo in difficoltà Silvio Berlusconi, e poi c'è questa curata con una terapia antibiotica, e poi c'è questa terapia chemioterapica che sta facendo per la leucemia, perché abbiamo scoperto adesso che Silvio Berlusconi soffriva almeno da un anno di una forma lieve di leucemia cronica, che non è pericolosa come quella acuta, ma che in un soggetto 86 anni già cardiopatico chiaramente mette a sé o repentaglio gli organi, perché le difese immunitarie si abbassano radicalmente e si è esposti a delle infezioni. Quindi aspettiamo di capire se oggi arriverà all'esito di questi nuovi esami che ha fatto ieri, se ci saranno degli aggiornamenti su un quadro clinico che i medici in questo momento valutano sicuramente serio, importante, ma stabile e in miglioramento. Ieri sono venuti i suoi figli di nuovo a trovarlo, l'amico di sempre, fedele Confodonieri, che ha detto andando via sta meglio di prima, il fratello Paolo che però per la prima volta è andato via senza rilasciare dichiarazioni ai giornalisti, ma si respira, diciamo, qui dal San Raffaele c'è un'aria di cautoottimismo in questi ultimi giorni, in queste ultime 24 ore da parte della famiglia. Capiremo oggi se il professor Alberto Zangrillo, che è il medico personale di Silvio Berlusconi ed è il direttore del reparto di terapia intensiva dove Berlusconi si trova, ci darà degli aggiornamenti in tal senso e se questi ultimi esami che hanno fatto fanno, diciamo, sperare per una uscita almeno da parte della terapia intensiva. Anche perché, Carmelo, per capirci, la difficoltà è proprio di trovare il mix tra la cura, la chemioterapia che sta facendo adesso in questo momento la leucemia e il problema relativo alla polmonite, perché, diciamo, le due terapie non sempre vanno d'accordo. Certo, certo, perché c'è una parte della terapia, diciamo, chemioterapica che debilita moltissimo e chiaramente poi gli antibiotici che invece hanno una forma, si pongono verso il soggetto in maniera più aggressiva e quindi quando c'è anche una polmonite in questo senso è un mix di terapie che può confliggere. Per questo l'attenzione è massima e per questo motivo resta chiaramente in terapia intensiva, senza ombra di dubbio, almeno per le prossime ore. Vedremo se è l'esito di questi esami di ieri e soprattutto dell'ATAC, se gli organi iniziano a funzionare meglio perché è arrivato con un'insufficienza renale molto, molto, molto forte e un'infiammazione polmonare fortissima che mette chiaramente a repentaglio anche poi il sistema cardiaco. Lo ricordiamo, Silvio Berlusconi nel 2016 ha subito la sostituzione della valvola ortica. Insomma, è una condizione importante, seria, critica, però nelle ultime ore si respira questo cautoottimismo perché è una condizione stabile e netto, diciamo, netto, insomma, che va verso un miglioramento. Lo dimostrano anche le telefonate che Berlusconi ha fatto in questi giorni ai suoi di Forza Italia, l'ultima ieri per stimolare i suoi uomini sui lavori parlamentari. Insomma, cerchiamo di capire se arriveranno nuovi aggiornamenti e se è una condizione che cerca di mettersi in una condizione... Se dovessero arrivare poi ci sentiremo più avanti. Almeno dalla terapia intensiva. Ci sentiremo più avanti. E se arrivano aggiornamenti vi chiamiamo e vi chiediamo la linea, certo. Grazie, grazie a Carmelo Schieninà. Allora, detto che ovviamente auguri a Silvio Berlusconi e insomma vicinanza alla famiglia per queste giornate molto molto complicate. Parto da Salvatore Merlo, primario di matologia del Gemelli, il professore Livio Pagano, oggi intervistato dalla stampa, alla domanda, qualora si riesca a tenere sotto controllo la malattia di Berlusconi potrebbe tornare su impegni politici? No, perché anche se cronicizza, parliamo di un organismo indebolito dalla malattia che a stento riuscirà a mantenere a lungo la concentrazione e a lavorare per più di due ore. Dovrà cercare di godersi l'affetto dei suoi cari. Allora, Silvio Berlusconi ci ha dato dimostrazione di una forza straordinaria in passato per quanto riguarda prove che ha avuto dal punto di vista della salute, dal punto di vista personale. è un uomo di 86 anni che si trova praticamente a un punto di svolta. Oggi i giornali, ma anche ieri i giornali, erano pieni di vari retroscena, di tutto un mondo che si sta muovendo, di vari mondi che si stanno muovendo sotto Silvio Berlusconi. E tra l'altro anche la famiglia in questo senso è presente perché la forza propulsiva di Silvio Berlusconi per Forza Italia è determinante. Silvio Berlusconi è Forza Italia e Forza Italia è Silvio Berlusconi. è difficile identificare un'altra figura all'interno di quel partito alternativa. No, non esiste. Da quando Berlusconi è in politica, Forza Italia è una cosa che si è sempre condensata intorno al carisma monocratico, ludico di un uomo che intonava insieme al suo popolo i jingle di Forza Italia, e meno male che Silvio c'è, Forza Italia quando celebra il suo primo congresso, chiamiamolo così, di questa cosa che non si poteva nemmeno chiamare partito, perché lui non l'ha mai voluto chiamare partito, diceva che solo la parola partito mi fa venire l'orticarie, ha sempre detto Berlusconi. Il primo congresso era con Berlusconi che calava dall'alto, idolo su un elicottero al forum di Assago, c'erano i coriandoli, c'erano i raggi laser, chiedevano, gli chiesero, i giornalisti si avvicinarono, gli chiesero, ma senta, ma chi è il numero due di Forza Italia? E lui disse, è il numero due di Forza Italia? Sì, è Gianni Letta, ma se non è nemmeno iscritto. Questo è Forza Italia. Forza Italia nasce e si risolve in Silvio Berlusconi. Si può dire che questa è stata la forza della politica per Berlusconi ed è stata allo stesso tempo la sua debolezza e anche il risvolto caduco della medaglia, se si può usare questa espressione. Berlusconi non ha mai inteso che possa esistere un suo successore, ne ha più volte indicato qualcuno in maniera così altalenante, ogni volta lo nominava, si divertiva, lo uccideva. Altri hanno invito a diventarlo. E tutti infatti ricordiamo la battuta straordinaria, cinica di Massimo D'Alema che diceva che non si può essere delfini di un pesce cane. Quindi se Berlusconi fosse impedito dal fare politica, è evidente che non c'è più Forza Italia. Ha fatto parecchio discutere, vado a Simona Maggiore, le dichiarazioni anche di Calenda Tagadà, proprio qui alla 7, sul fatto che si sta ultimando la Seconda Repubblica e il tempo di voltare pagina. Tra l'altro tra le polemiche, oggi c'è una ricca polemica all'interno del terzo polo, insomma, tra Renziani e Calendiani, possiamo dire così. È effettivamente la fine di un periodo o forse abbiamo già dato per chiusa la Seconda Repubblica innestando la terza con Giorgia Meloni, oppure no? Non so se sei appassionata alla seconda terza, all'etichetta di seconda e terza Repubblica. Non lo so, però sicuramente è la fine di un'epoca, insomma, come diceva prima Salvatore, l'impressione è che, insomma, Forza Italia, tutta quella fase lì, è tutta, come dire, coincide con la vita stessa di Berlusconi, partita azienda, no? L'abbiamo visto in tutti i modi. È interessante, prima parlavate dei delfini, possibili delfini, forse il delfino reale di Berlusconi è Renzi. Renzi, il quale ha sempre rivendicato di essere cresciuto con le tv di Berlusconi, no? Ricordiamo poi i suoi viaggi ad Arcore, cioè quella cultura, quella cultura della tv privata di Berlusconi, del drive-in, tutto questo è Renzi, un certo populismo Renzi l'ha preso crescendo con Berlusconi e in questo momento sicuramente sono molto ghiotti per lui, per Renzi, sentendo i voti di Forza Italia perché, come dicevamo adesso, poco fa si aprono varie strade, qualcuno andrà verso la Lega e già questo sta accadendo, altri appunto sono attratti dal terzo polo, ma soprattutto io direi Renzi perché dall'altra parte invece, come si diceva, Calenda invece è intervenuto in maniera, diciamo, trancianna, quindi sicuramente c'è anche una divisione, si percepisce un dissidio tra, sempre più forte, tra Renzi e Calenda, anche con le scelte ultime di Renzi di raddoppiare appunto, citando la tv, facendo anche il direttore del... Però allora, questo potrebbe essere uno scenario italiano, e vado da Mario Lavia, poi c'è lo scenario europeo che guarda più a, diciamo, una forza Italia, più vicina in questa fase a fratelli d'Italia, no? Proprio in proiezione per quanto riguarda l'europeo. Credi più nello scenario italiano o quello europeo? A tutti e due, nel senso che, secondo me, il gruppo dirigente, intanto, perché poi i partiti sono i gruppi dirigenti, i parlamentari, e poi larga parte dell'elettorato di Forza Italia verrà inevitabilmente attratto da Giorgia Meloni. Io non credo a... La Lega è un partito che sta lì, ma insomma, io penso che si vada verso un partito unico della destra, non si fa in una settimana, però io penso che si andrà verso un partito unico, cioè fratelli d'Italia, diventerà il partito della destra italiana, forse anche, diciamo, prefigurando, anticipando, evocando una specie di bipartitismo, addirittura, oltre il bipolarismo, cioè con un grande partito di destra, marcatamente di destra, molto di destra, fratelli d'Italia, con la Lega che fa la Lega, che mantiene una sorta, e dall'altra parte un partito radicale, di sicurezza. Ricordiamo sempre che l'europeo si va col proporzionale, quindi ognuno si va a pesare con le proprie forze. Però facciamosi chiaro, poi l'europeo sono molto importanti, ma sono anche un episodio, cioè secondo me le dinamiche lunghe, quelle diciamo strutturali, secondo me, sbaglierò, però mi sembra di poter dire che si può andare in quella direzione, e poi dipende anche dai protagonisti, cioè la Meloni deve essere in grado di prendere tutto il bagaglio di Forza Italia, deve essere in grado di rimanere sulla scena, a sinistra devono fare un partito nuovo, vediamo che fa il Leach Line, eccetera, quindi non è detto nulla, però... Forse anche Meloni deve fare un partito nuovo, no? Com'è? E anche Meloni probabilmente deve fare un partito nuovo. Meloni deve fare un partito nuovo, cioè il partito unico della destra. Il partito che va oltre Fratelli d'Italia. Deve fare un predellino di destra. Predellino, la cosa di Berlusconi non l'ha portato benissimo il predellino, adesso stavo pensando... Non portò benissimo perché a N era N, cioè c'era Gianfranco Fini, qui Forza Italia senza Berlusconi è veramente un ectoplasma. Alessandro Salsoni, di questo primo giro, poi vado da Panarari perché ovviamente sulla figura di Berlusconi potremmo fare puntate con Panarari, ma questo... Non c'è dubbio proprio perché poi Berlusconi è un pezzo del paese. Punto alla capiccia di sintesi del professor Panarari, un pezzo del paese, non è solo Forza Italia, non è solo la politica ma sono tutti i risvolti economici che naturalmente ha... Di costume. Di costume, naturalmente, ma è proprio un pezzo strutturale del paese, un asse, come dire, comunque la si pensi e qualunque sia il giudizio rispetto politico, culturale, rispetto alla sua azione, è un pezzo proprio di paese che regge alcuni elementi. Rispetto al dato politico, Forza Italia è un partito personale dalla nascita, su questo non c'è dubbio, bisognerà capire i gruppi dirigenti, probabilmente non tutti quanti, avrebbero gli stretti approdi perché qua dobbiamo utilizzare il condizionale perché Berlusconi, anche se il professore che è stato intervistato dalla stampa dice che teoricamente non sarebbe in grado di occuparsi di politica, noi abbiamo scoperto adesso che aveva questa malattia, ce l'aveva anche prima, si intuisce da come... Ed è una malattia che poi porta ancora una qualsiasi infezione a diventare una cosa molto più importante rispetto a... Esattamente, però lui in questi mesi, in questi ultimi anni, nonostante non fosse insomma in grande forma, ha continuato, anche se magari limitando i tempi, le uscite, a gestire insomma la sua azione politica, quindi Berlusconi fino a quando è insomma sulla scena, ancora un paio di ore al giorno probabilmente alla politica e a Forza Italia le dedicherà cercando di orientarla, l'aveva fatto anche poco prima di questa vicenda, insomma, del ricovero. Dopodiché, la riformulazione del quadro politico italiano è nelle cose. La seconda repubblica come democrazia dell'alternanza si è verificata, almeno fino a un certo punto, quindi fino all'esploat grillino, poi adesso sembra che sta riprendendo, ma attorno all'uomo Berlusconi, perché non abbiamo mai, nella prassi, non abbiamo mai avuto una riforma costituzionale nel nostro paese che orientasse verso un bipolarismo, un bipartitismo sancito in qualche modo da un sistema elettorale, da un sistema istituzionale. ci siamo sempre raccontati una zona di bipolarismo che poi alla fine come l'elezione diretta del Presidente del Consiglio. Ed era Berlusconi, essere berlusconiano, anti-berlusconiano, determinava questa democrazia dell'alternanza di fatto che è stata la seconda repubblica come prosecuzione, come dire, mirabolante della prima in forme nuove. C'è un problema evidentemente che prescinde da Berlusconi di definire gli assetti istituzionali di questo paese, ma per farlo in termini costituzionali come dovrebbe essere occorrerebbe molto di più che la fondazione di un nuovo fratelli d'Italia, di un nuovo partito della destra, di un nuovo partito della sinistra. Nel 93 e nel 94 se ne parlava un'assemblea costituente. Oggi soltanto a pronunciare questa parola sembri un uomo appunto piuttosto agé che comincia a portare gli occhiali perché è rimasto affessionato appunto a delle dinamiche antiche come la capisco. Però servono, servono. Allora, invece dal professor Panarari questo vorrei chiedere. Allora, oggi nella retroscena di Francesco Verderami si fa questo nome che ai più potrebbe sembrare sconosciuto che è il signor Alfredo Messina. Alfredo Messina è il depositario del simbolo di Forza Italia, nonché persona molto vicina alla famiglia Berlusconi che ha ribadito anche ieri che il brand resta nelle mani della famiglia Berlusconi. Allora, parla il professor Panarari che tra brand e diciamo nome di un partito oramai siamo abituati a identificare insomma i leader dei partiti con il loro simbolo. Berlusconi forse è qualche cosa anche di più? Sì, Berlusconi è anche una figura naturalmente di carisma personale particolarmente marcato e potremmo dire l'autobiografia di un pezzo importante della nazione che ha solcato tutti questi anni e anche se i numeri apparentemente delle repubbliche la numerazione della repubblica cambiava Berlusconi era sempre presente naturalmente con minore forza propulsiva man mano che il tempo passava però è una sorta di grande costante cioè dal 94 ad oggi noi troviamo sempre la figura di Silvio Berlusconi in differenti forme con differente forma politica in questo caso ma sempre presente a caratterizzare questo lungo trentennio della storia italiana il brand Forza Italia è lui il ricorso al nome del paese del bel paese è un'invenzione sostanzialmente sua anche se c'era stato qualche piccolo episodio in precedenza e naturalmente ha segnato l'epoca successiva nel senso che da Fratelli d'Italia a Italia Viva noi ritroviamo questo richiamo al paese che è un po' l'idea del partito della nazione del tentativo di costruire il partito della nazione naturalmente cosa che in alcuni casi non è riuscita che ha caratterizzato però questa fase di leadership intermittente che al confronto di quella berlusconiana è dal punto di vista del tempo che dura impressionante molto limitata mentre la durata della leadership berlusconiana il confronto è appunto anche nel tempo molto più solido e molto lunga e che ci porta a proposito dei ragionamenti che facevate prima fino a Fratelli d'Italia ricompare il termine Italia c'è l'idea del partito della nazione e c'è anche l'idea come diceva Mario Lavia di provare a strutturarla questo è tutto da vedere però in una direzione sicuramente di egemonia culturale per esempio oltre che politica nei giorni scorsi si è celebrata questo convegno in cui si è lanciato il guanto della sfida anche se si è cercato di ridurre i toni a quella che è stata considerata l'egemonia culturale della sinistra nel passato e c'è soprattutto l'idea di un partito pigliatutto nei numeri cosa che è sostanzialmente avvenuta ma non è detto che duri e che proprio per poter continuare a imprimere un segno sul paese e a puntellare in termini di durata la leadership di Giorgio Meloni ha bisogno di darsi un'altra struttura darsi un altro orizzonte e trasformarsi in quello che la stessa Meloni chiama partito conservatore anche se l'etichetta naturalmente è per il momento ancora un po' generica e soprattutto ci sono delle giacenze diciamo così delle rimanenze del passato molto significative chiudo dicendo una cosa Silvio Berlusconi è un brand ma soprattutto è un brand il tipo di egemonia culturale o sottoculturale che nel corso di questo trentennio si è instaurata Simona Maggiorelli faceva riferimento alla televisione ecco quel tipo di televisioni commerciali la cosiddetta neotelevisione come l'aveva chiamato Umberto Eco è davvero l'autobiografia di tante generazioni anche di politici perché Matteo Renzi è stato concorrente alla ruota della fortuna se non sbaglio il pranzo è servito è stato il romanzo di formazione dal punto di vista televisivo ricordo che anche Matteo Salvini ha partecipato a diversi quiz all'epoca quindi precisamente di Matteo Salvini era un passaggio obbligato quindi erano le frattocchie del centro-destra adesso la battuta di sabato mattina me la permetterete no no è assolutamente perfetta è il romanzo di formazione è il percorso iniziatico ed è soprattutto il modo di stare davanti al pubblico perché noi viviamo e Silvio Berlusconi ha dato un contributo formidabile da questo punto di vista naturalmente con tutti diciamo tutte le problematiche critiche che ne derivano alla trasformazione anche dell'Italia in quella che si chiama la democrazia del pubblico la fine della democrazia dei partiti l'ingresso nella democrazia del pubblico in cui i media naturalmente contano tantissimo e in cui il leader ha bisogno di una presenza scenica che ovviamente è sempre e molto extra politica come è stata quella di Berlusconi e che si forma tra reality show più recentemente naturalmente e game show e quiz show come quelli a cui facevamo riferimento prima allora poi c'è il dato politico e il dato politico lo ha accennato prima il professor Panarari lo dicevamo anche all'interno del dibattito a cercare di capire Forza Italia dove va a guardare in questa fase c'è la scadenza per le europee ieri è arrivata questa notizia insomma oggi diversi giornali riportano di questa posizione da parte del paese italiano nei confronti di Orban nei confronti del 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 leader ungherese per quanto riguarda le leggi LGBTQ che hanno fatto molto molto discutere in Europa c'è stata una netta presa di posizione da parte della maggioranza dei paesi europei tra questi anche Francia e Germania nei confronti di Orban l'Italia ha preso un'altra posizione ed ecco qui quello che vi dicevo prima diciamo l'obiettivo europeo è la formazione di un asse moderato legato poi invece al gruppo europeo di destra di questo parleremo a rientro dalla pubblicità pochi minuti rientriamo in diretta stiamo ragionando su quella che è la situazione insomma all'interno del centro-destra ricordando e augurando ancora ovviamente auguri di pronta guarigione a Sifio Berlusconi però è ovvio che poi la lotta politica riparto da Salvatore Merlo per quanto riguarda una serie di battaglie che sono anche di rimenti all'interno della famiglia diciamo del centro-destra prima della pubblicità abbiamo ricordato quella che è la posizione italiana oggi c'è un grafico che dà in maniera molto plastica quella che sono le scelte dei paesi europei nei confronti delle leggi diciamo omofobe possiamo definirle così da parte di Orban e l'Italia in questo grafico praticamente viene messa con tutto diciamo il blocco degli est da Visegrad e in poi anche il blocco diciamo Estonia Lituania e Lettonia mentre tutto quanto diciamo i paesi europei sono vicini a Francia e Germania e tornando al discorso di prima sul fatto di questo mondo moderato e questo asse diciamo moderato che c'è all'interno di Forza Italia è questa l'operazione cioè è questa l'OPA che possiamo dire può fare Giorgia Meloni in questo momento per cercare proprio di rimettere tutto in discussione anche le fondamenta dell'Europa per così come l'abbiamo conosciuto può avere questa forza? Sai che la domanda non lo... Cioè nel senso l'idea stessa di questa di questa prospettiva di Giorgia Meloni di questo asse con il mondo moderato è plausibile e potrebbe avere un'accelerazione viste la situazione contingente? Ma sono cose diverse cioè è da tempo che parte dell'elettorato credo di Forza Italia sia andato a Fratelli d'Italia adesso Fratelli d'Italia immagino l'ho sentito dire a loro in passato e anche prima dell'elezione addirittura ogni tanto sono consapevoli del fatto che si debba si debbano fare degli aggiustamenti una cosa è per esempio loro la fiamma non la tolgono perché arriva la sinistra che gli dice che si togli la fiamma se loro decidono di togliere la fiamma dal simbolo lo fanno per scelta loro all'interno di un esito di una discussione profonda congressuale la presa d'atto di novità che sono intervenute al loro interno e nel mondo rispettando la loro stessa storia senza rinnegarla e questa è una cosa che immagino possa succedere e all'interno di questo meccanismo suppongo pure che non ce lo auguriamo ma se non ci fosse più Berlusconi quindi scomparisse anche Forza Italia diventerebbe importante necessario inevitabile quello di accompagnare una ipotesi congressuale e quindi un cambio di simbolo e anche di offerta politica con l'allargamento a settori più liberali di origine dell'elettorato italiano E tutto questo il terzo polo? Ma il terzo polo io non so sai siamo sempre nel campo dei consigli non richiesti ai leader politici io non so se esiste lo spazio di una terza cosa in Italia forse verrebbe da dire a Calenda di scegliersi un campo e di provare a conquistarne l'egemonia se può lo sa fare se ne ha gli strumenti ecco il terzo polo finora non è andato benissimo nessuna delle è andato male in Lombardia è andato piuttosto male anche in Friuli e tanto più diventa forse complicata come navigazione come se davvero la prospettiva della politica italiana è quella di una di una forte concentrazione bipolarista cioè quello Giorgia Meloni ha prodotto delle novità evidenti io non so se sono novità profonde o se sono novità di superficie poi il nostro paese è confuso è tutto veloce è tutto piuttosto anche superficiale però è evidente che Elislein è un effetto di Giorgia Meloni Elislein è la risposta della sinistra che era catatonica alla vittoria di questa la prima donna che diventa presidente del consiglio nella storia della repubblica e produce questa risposta che adesso vedremo che cos'è esattamente mi sembra presto per trarre delle conclusioni sul fenomeno ammesso che sia un fenomeno no dico cantianamente no la Elislein però può darsi che si arrivi a una sinistra con un profilo molto marcato e poi Corbiniano è una destra che si che diventa conservatrice che archivia la fiamma che apre al mondo liberale liberale conservatore restando a destra ovviamente ma aprendosi anche a persone e a voti che non arrivano dal movimento sociale da quello che è stato il movimento sociale che sono già i voti che ci sono là dentro perché è ovvio che non arrivi a quelle percentuali se non hai non è mai non è mai stata così forte la destra la destra di origine post fascista in Italia mai e forse per questo Alessandro Sansoni oggi Alessandro Giulie direttore del Maxi giornalista collega insomma in una lunga intervista alla stampa parla proprio il riferimento al convegno che abbiamo citato prima San Giuliano il ministro della cultura che è stato promotore insomma di questa iniziativa San Giuliano costruisce un'egemonia culturale il 25 aprile è un valore condiviso dalla destra il sovranismo è morto è stata una fase scatenata da un eccesso di globalizzazione ma la destra antisistema è forte cioè stiamo assistendo a una sorta di assestamento cioè che è una nuova fase siamo all'inizio diciamo di una nuova fase per creare magari arrivare a quella creatura nuova che dicevamo che dicevamo anche prima all'interno della destra che possa diciamo in qualche modo includere anche più mondi allora che ci sia un processo di trasformazione in atto e non da insomma da quando ci sono state le elezioni credo che sia abbastanza evidente ma riguarda il quadro politico complessivo anche prima quando si parlava dei riassetti europei e di che cosa potrebbe accadere dopo il 2024 e di come si posiziona poi il fenomeno Meloni all'interno di una ridefinizione della geografia politica dell'Europa parliamo di un cambiamento potenzialmente epocale se accadesse perché si vocifera di una possibile alleanza tra il gruppo ECR con il gruppo del Partito Popolare Europeo qualora ci fossero diciamo i numeri per cambiare completamente anche il corpaccione del Parlamento Europeo della Commissione Europea così come l'abbiamo conosciuto da quando è stata fondata poi questa organizzazione ovvero l'asse trasversale Partito Socialista Europeo Partito Popolare Europeo questa grossa coalizione che da sempre in qualche modo regge le istituzioni di Bruxelles e fonda e cementa anche geopoliticamente l'asse franco tedesco quando si ipotizza un possibile cambio degli assetti partitici dell'Unione Europea con i conservatori e il PPE invece che in grossa coalizione con il Partito Socialista Europeo significa che prende più forza il mondo di quella che i neoconservatori americani chiamavano la nuova Europa quindi Polonia quindi i paesi baltici e significherebbe un ridimensionamento dell'asse franco tedesco con tutto questo quello che questo può comportare e che già voglio dire comporta in quello che stiamo vedendo dal 24 febbraio a questa parte cioè significa cambiare la mission e la ragione sociale dell'Unione Europea un episodio di questo genere c'è anche chi pensa per esempio invece che Giorgia Meloni voglia andare all'interno del Partito Popolare Europeo ci sono state delle frizioni in questo senso che hanno poi determinato anche delle forme di resistenza delle perplessità in una parte del gruppo dirigente di Forza Italia insomma tant'è vero che anche i veri ostacoli che in qualche modo sta affrontando il governo italiano e la stessa leadership della Meloni più che venire dalle opposizioni che mi sembrano piuttosto frantumate e sparpaiate in questa fase provengono proprio da Bruxelles e da altri paesi dell'Unione Europea perché evidentemente è qui che si gioca la vera partita prima ancora che in Italia però mi riecheggiano in testa le parole dell'ultima conferenza stampa e vado da Mario Lavia di Mario Draghi sulle amicizie da trovarsi e da scegliersi insomma su cui conviene stare su un paese piuttosto che l'altro e lì si parlava proprio diciamo di questo asse diciamo baltico dell'est europeo di quel blocco lì Polonia Ungheria rispetto a Francia e Germania sì penso che sia una prospettiva drammatica cioè se davvero cedesse l'asse franco lo storico asse franco tedesco imperniato sulle forze popolari e democratiche io credo che sarebbe una sciagura per l'Europa ma al di là di questo io volevo dire una cosa che diceva Salvatore Merro è preciso quello che ho detto prima cioè io penso che ci può essere uno sviluppo di questo tipo stante la forzata assenza di Berlusconi perché adesso parliamoci chiaramente no ci sarà un ridimensionamento della sua attività come minimo io penso che ci sarà un processo abbastanza naturale dell'elettorato che già abbiamo visto di Forza Italia dei gruppi dirigenti di Forza Italia verso Fratelli d'Italia non credo sinceramente che Giorgio Ameloni avrà bisogno di fare chissà quale operazione secondo me Giorgio Ameloni non avrà bisogno di fare quello che fece Fini cioè Fini cercò di cambiare pelle al movimento sociale no fece un sacco di roba alleanza nazionale cioè fece una cosa molto profonda e magliene incolse poi alla fine no trent'anni dopo quasi trent'anni dopo la svolta di Fiuggi noi vediamo personaggi di allora che stavano con Fini che ritornano verso lì di reazionari di destra a destra quindi secondo me Giorgio Ameloni farà un partito farà Fratelli d'Italia poi forse gli cambierà pure nome ma quello non è importante sarà comunque un partito di destra di destra non sarà un partito democristiano un po' così sarà un partito di destra popolare però sarà un partito di destra contenitore con all'interno diverse anime più di quelle che già ha insomma ma c'è già Crosetto dentro Fratelli d'Italia cioè non è che uno dei fondatori di Fratelli d'Italia esattamente però diciamo l'egemonia dentro Fratelli d'Italia è un'egemonia reazionaria che deriva dal movimento sociale e questo sta andando bene agli italiani cioè lì non è che c'è un contrasto se lei riesce questo è il punto se lei riesce a governare e quindi a imporre la sua stella a mettere la sua firma su questa fase storica quindi non a fare il governicchio se riesce a governare riuscirà secondo me naturalmente a fare questo processo di allargamento che non ha bisogno di macchiage politici è una cosa secondo me abbastanza naturale vedevo scuotere la testa Simona Maggiorelli sulla maggioranza degli italiani credo sì perché insomma io credo che questa vittoria che c'è stata insomma anche di Fratelli d'Italia della Premier in persona sia anche molto dovuta alla debolezza dell'opposizione che è stata talmente frantumata fin qui in tutti i modi possibili per dire quale opposizione quale opposizione con quale identità e questo adesso ne parleremo penso anche del PD quale identità però per rimanere sulla questione che ponevate io sono d'accordo con la via nel senso che penso che l'identità di questa dei fratelli d'Italia sia destra destra e anche come scriviamo anche sull'EFT molto revisionista dal punto di vista storico ci avviciniamo al 25 non è d'accordo con le parole di Giulie che è un valore condiviso anche da destra io temo di no queste uscite anche personali che poi la stessa Premier deve riprendere quando ha detto che comunque la Russa ha fatto una sgrammaticatura in qualche modo ha dovuto dirgli fermati cercare di tenere a freno e bollenti spiriti che invece ci sono insomma che sono quelli voglio dire la Presidente la Russa l'ha detto con chiarezza insomma dicendo di Rauti insomma parlando di Almirante ma questo Almirante è la stessa Meloni l'ha rivendicato anche nel suo libro e anche successivamente insomma come maestro e così via mi sembra che l'identità da questo punto di vista sia molto molto chiara appunto è estremamente conservatrice da un punto di vista anche dei valori dei diritti sociali e civili perché insomma dicevamo adesso di Orman dovremmo dire dell'aborto dobbiamo dire dei muri di alzare i muri e così via contro i migranti e tutto questo dall'altra parte c'è però un aspetto come dire come lo vogliamo definire mercatista neoliberista poi nelle politiche che poi si vede anche effettivamente parliamo di San Giuliano parliamo di un tema che mi è molto caro la cultura se si va a leggere le direttive che ha dato per i prossimi cinque anni il Ministro San Giuliano troviamo ripetuto ossessivamente l'idea della messa al reddito del patrimonio artistico che è la stessa cosa che faceva tra l'altro Berlusconi all'epoca appunto di Tremonti con le cartolarizzazioni con bondi che nel 2008 di mezzo i fondi del Ministero la valorizzazione dei beni culturali sì ma è una politica estremamente liberista liberista di farne appunto un brand che è la legazione della legge Bottai peraltro esatto esatto che tra l'altro Argan in qualche modo collaborò a rendere migliore assolutamente vado dal Massimiliano Paranari perché proprio sul discorso dell'egemonia culturale insomma si è fatto un gran parlare e anche nella ricerca diciamo di figure che possono quantomeno diciamo identificarsi in questo nuovo corso però Meloni ha fatto ricorso io penso a figure esempio come Marcello Pera o come l'attuale esempio Ministro Nordio che vengono dal mondo diciamo quello più liberale perché comunque Berlusconi in questi 30 anni torno sempre all'argomento di partenza ha in qualche modo coinvolto tutto questo mondo tenendo fuori magari delle figure che potevano essere un po' più limitrofe diciamo così sì diciamo un'intuizione di Berlusconi che poi lui stesso per primo dismise rapidamente perché non era redditizia elettoralmente era com'è ricordiamo tutti l'idea di costruire un partito liberale di massa cosa molto difficile in questo paese per le sue caratteristiche così come è molto difficile in realtà costruire un partito radicale di massa perché le culture politiche liberali sono strutturalmente minoritarie nella storia della storia italiana nella storia del nostro paese però quell'elemento l'elemento liberale l'elemento moderato è stato sostanzialmente il biglietto da visita che Silvio Berlusconi pur essendo lui strutturalmente anche un populista ed è proprio da qui che deriva in realtà il suo successo elettorale oltre ad avere rappresentato per molti versi appunto una declinazione di una certa antropologia italiana ma quella l'idea di essere il moderato di rappresentare una componente liberal conservatrice all'interno della politica italiana è stata sostanzialmente l'ideologia o la narrazione che lui ha presentato e che lo ha giustificato anche rispetto al ruolo svolto all'interno del Partito Popolare Europeo oggi naturalmente ci troviamo in una fase storica profondamente differente ma è stato proprio Silvio Berlusconi a sdoganare diciamo così la destra inserendola all'interno di un percorso politico di cui faceva naturalmente già parte ma con una caratterizzazione piuttosto antisistemica faceva parte dell'arco parlamentare ma non dell'arco costituzionale proprio in quanto erede di una certa DC di un certo oltre che del Partito Socialista e figura appunto che rappresentava ed esauriva il campo dei moderati italiani oggi per Giorgio Meloni c'è un problema rispetto alla fase di salute molto difficile di Silvio Berlusconi perché se Forza Italia dovesse essere presa da una spirale diciamo così di dissoluzione verrebbe a mancare quell'etichetta verrebbe a mancare quel biglietto da visita che è molto importante per legittimarla rispetto anche agli equilibri europei non nel senso che ne ha bisogno ma nel senso che è un volto che ha bisogno di presentare naturalmente può introiettarlo come diceva prima come si diceva prima in studio può e attirerà sicuramente con un magneto una parte dei gruppi dirigenti una parte significativa di elettori li ha già portati con sé in quella logica di partito pigliatutto ma naturalmente il suo segno è un segno profondamente differente la suggestione sulla dimensione reazionaria è molto interessante perché Meloni è il volto italiano di una destra che a livello internazionale è profondamente cambiata non c'è più leggemonia popolare nel senso di erede dei partiti della DC ed è per questo che il partito popolare europeo ha bisogno e ha fatto entrare all'interno delle sue file anche partiti che non appartenevano alla storia del popolarismo proprio per una questione di numeri naturalmente di equilibri e di possibilità di spendersi in termini di equilibri di forza all'interno delle istituzioni comunitarie ma potremmo dire che Giorgia Meloni è il volto italiano aggiungo anche che a livello europeo diciamo i socialisti europei non è che godono di grandissima salute in questa fase certo esattamente e questa infatti è una delle ragioni per le quali c'è un'interlocuzione possibile con i conservatori anche se le elezioni europee che si giocano col proporzionale non consigliano ai vari partiti democratico cristiani di aprire a destra perché la competizione sarà appunto su una parte di quell'elettorato all'interno dei singoli stati nazione ma Meloni è il volto lo abbiamo visto per esempio nei paesi scandinavi di quello che è successo all'indomani della crisi finanziaria del 2008-2011 è la rivolta del ceto medio quello che succede in Francia dove in questo momento i consensi per Emmanuel Macron sono i minimi storici e invece le pen senza diciamo impegnarsi particolarmente e tenendo un profilo un low profile un profilo diciamo abbastanza sotto traccia si sta gonfiando tantissimo e addirittura diciamo potrebbe vincere in un ipotetico secondo turno con Macron per l'appunto quindi il segno reazionario della destra c'è è cambiato lo vediamo anche nelle guerre culturali per esempio sui diritti civili il punto è per la destra come stabilizzarlo perché appunto non sia una fiammata ma diventi qualcosa d'altro e da questo punto di vista introiettare assorbire anche i partiti moderati in difficoltà diventa naturalmente un punto decisivo allora a rientro della pubblicità invece parleremo abbiamo detto insomma che ieri Elislein ha annunciato la nuova segreteria se ne è parlato tanto perché per 42 giorni diciamo i tempi non sono stati esattamente brevi sono arrivati i nomi dicevo di alcune sorprese e di altre certezze e delle varie anime insomma all'interno del partito democratico alcuni non l'hanno presa proprio benissimo a rientro della pubblicità parleremo di questo è con grande piacere naturalmente che voglio diciamo condividere con voi questa composizione fatemi però prima dire che sono ore di e giorni di di grande apprezzione sulla situazione di salute di Silvio Berlusconi a cui mi sento di fare un grande augurio di pronta guarigione perché possa superare questo momento di difficoltà e rimettersi e rimettersi a più presto abbiamo fatto un lavoro per cercare di costruire una squadra molto solida basata sul rinnovamento certamente sull'apertura ma anche sulle competenze specifiche che abbiamo anzitutto al nostro interno e poi naturalmente anche guardando all'esterno ad alcuni messaggi importanti insomma da dare alcune persone che possono portare un contributo a questo nuovo corso del Partito Democratico e avendo chiuso oggi diciamo il lavoro di costruzione della segreteria mi prenderò anch'io ecco forse qualche giorno per riposarmi perché non mi sono ancora fermata dal 26 febbraio e comincio a risentirne quindi mi prenderò qualche giorno di pausa per poter staccare riposare e chiaramente poi per tornare a fare tutto il lavoro che ci aspetta che è enorme come avete capito ma farlo naturalmente con al mio fianco una squadra davvero di grande qualità e soprattutto di grande qualità se confrontata con chi oggi è al governo del nostro paese e che sfideremo su ognuno di questi terreni su ognuno di questi temi l'abbiamo detto e lo riconfermo continueremo a voler essere un problema per il governo di Giorgia Meloni allora questo è un estratto insomma di una lunga diretta Instagram che ha fatto ieri Erlich Line presentando la sua segreteria se ne era parlato se ne era parlato in questi giorni insomma di incontri telefonate con Bonaccini ieri mattina è arrivato il via libera da parte diciamo della minoranza del Partito Democratico alla nuova segreteria e ieri sono arrivati i nomi rapidamente Alessandro Alfieri riforme PNRR poi per Francesco Maiorino alle politiche migratorie Marina Sereni diretto alla salute e sanità Deborah Serracchiani alla giustizia Igor Taruffi uomo molto vicino a Bonaccini all'organizzazione del Partito Democratico Antonio Misiani economia e finanze Giuseppe Provenzano esteri ed Europa ai diritti Alessandro Zan e poi Marta Bonafoni che è la nuova numero due Marta Bonafoni è un consigliere regionale famoso a Roma speaker di radio popolare oggi in una breve intervista alla stampa dice se l'approccio di governo fa perdere voti allora forse non è la strategia giusta è arrivato il momento di cambiare questo è un passaggio decisivo retroscena di Carlo Bertini raccoglie una serie di voci non proprio felice di questa nuova segreteria forse è proprio lo shock che serviva vedremo Graziano Del Rio ha mareggiato perché è stata persa un'occasione per dare più attenzione al mondo cattolico Gianni Cuperlo perché non è stata riconosciuta la ricchezza delle differenze a dispetto della promessa di unità e pluralismo Simona Maggiorelli una valutazione per quanto riguarda i nomi dicevo abbiamo detto in apertura nuovi volti vecchie conoscenze tra questi anche insomma il ritorno di alcune figure si è molto dibattuto anche di figure esterne al Partito Democratico o che facevano parte del Partito Democratico e poi l'hanno lasciato per poi rientrare un bicchiere mezzo pieno o un mezzo vuoto io andrei sul mezzo pieno nel senso che vedo un forte rinnovamento poi bisognerà vedere se riuscirà a tenere e a cambiare la cultura politica del partito però anche i nomi che citavi poc'anzi per esempio Marta Bonafoni Marta Bonafoni non era mai stata iscritta al PD l'unica tessera che lei sempre rivendicava era quella dell'Ampi quindi il segno dell'antifascismo e già nella prima intervista che ha dato nella sua nuova veste di coordinatrice ha messo dei punti abbastanza forti esplicitati di identità uno appunto è questa cosa del non dobbiamo governare per forza ma anteporre la cultura governista tutto il resto è un pochino più vaga sulla questione Green perché quando le fanno le domande su quale sarà la posizione di Alice Line riguardo al termovalorizzatore di Roma svicola dice ascolterà i sindaci però dentro la segreteria c'è anche Annalisa Corrado che non è stata proprio tenera sull'argomento termovalorizzatore ha preso posizione in maniera molto molto forte allora ci sono dei segnali l'altra cosa che noto è che le correnti sembrano essere abbastanza spuntate perché alla fine neanche Furfaro ha avuto un ruolo così come si diceva prima molto importante appunto addirittura Cuperlo e la De Micheli non pervenuti ne sono infatti malbancisti da questo punto di vista cioè mi sembra che sui diritti appunto Zanna ha lo stesso Maiorino che si è impegnato tantissimo nelle politiche per l'accoglienza per i migranti a livello europeo poi colgo anche un segnale per esempio ho visto che c'era anche Marva Mahmud che viene da la partecipazione e formazione politica esatto e viene da Demiria Romagna cioè segno che Lichlein ha fatto tesoro anche dell'esperienza di Romagna coraggiosa dove aveva scelto delle persone per competenza che venivano dai territori e non tanto era quell'esperimento che veniva anche con le sardine insomma di quella fase che poi la portò a fare la vice di Bonaccini in regione mi correggo ho detto Igor Taruffi in realtà è Davide Baruffi che viene dall'Emilia Romagna ed è responsabile viene da rifondazione comunista ancora prima enti locali la via sorride perché sorride no no è una segreteria molto molto sembra una frase scontata molto assomiglianza di Lichlein in questo però diciamo una cosa come Lichlein è tuttora un mistero dal punto di vista della linea politica perché adesso è passato poco tempo quindi non è una critica però noi non sappiamo almeno io non saprei dire qual è la linea politica di Lichlein tolto il fatto che partecipa giustamente alle manifestazioni antifasciste per i diritti però una linea politica è un'altra cosa non è partecipare ai cortei questo sono capace pure io la linea politica è individuare un avversario e costruire un sistema di alleanze e darsi soprattutto un programma politico ora quando sento non lo so che la nuova numero due Marta Bonafoni che io non conosco non ho mai sentito parlare conosco di nome dice che governare non è importante se questa è la linea politica del nuovo partito democratico si autocondanna da sola in una condizione di minorità credo che si rivisse il fatto di governare a tutti i costi a tutti i costi prima un'identità lei dice prima un contenuto uno si deve porre l'obiettivo di governare qui a me mi pare invece anche conoscendo un po' le culture politiche di alcuni di questi per esempio quelli che vengono da articolo 1 da Rifondazione Comunista da SEL Sandro Ruotolo persona collega bravissimo figuriamo però sono culture politiche che confliggono con un'idea del partito di governo che dovrebbe essere la caratteristica fondamentale ed è stata sin qui con alti e bassi poi come andare ad un altro discorso ma sin qui il partito democratico è nato per andare al governo per costruire un governo diciamo progressista e democratico adesso c'è un governo di estrema destra e mi sembra che si stia scegliendo la strada più comoda della identità curando il proprio orticello e strafregandosene del fatto che bisogna battere questa maggioranza e questo governo preparando le condizioni per ritornare a governare l'Italia questa mi sembra diciamo una follia dal punto di vista del PD perché gli consente adesso di riprendere i suoi consensi è anche un entusiasmo che non c'era con la sonnacchiosa segreteria di Letta però è una linea che dura qualche mese e poi si esaurisce allora c'è un'agenzia che conferma e torniamo alla notizia con cui abbiamo aperto oggi il dibattito di Omnibus ovvero che l'attentato a Tel Aviv perché la polizia israeliana ha confermato che l'autore dell'attentato terroristico di ieri sera in cui è stato ucciso il turista italiano Alessandro Parini è un arabo-israeliano di Kfar Kassem a nord-est di Tel Aviv il nome del terrorista secondo i media è Yusuf Abu-Jaber di 45 anni vedremo se ci saranno altri aggiornamenti invece vado a Salvatore Merlo perché tornando appunto alla diretta Instagram che abbiamo visto di Alice Line oggi il tuo direttore l'ho letto con molta attenzione ed era presente sul filo tra l'ironia e invece la rivendicazione di un silenzio in questa fase il titolo del pezzo di Claudio Cerasa i saggi silenzi di Schlein GBT ambiguità e populismi il governo ombra del PD dimostra che la leader Dem ha solo una chance per dare un futuro al partito dire poco o nulla per offrire l'illusione che il PD possa essere altro dalla pericolosa agenda delle banalità c'è ci sono una serie di nodi risolti all'interno del PD e finalmente magari non solamente una conferenza stampa potrà risolvere ma poi gli atti parlamentari in sé vedi le armi all'Ucraina e vedi le scelte green come abbiamo detto prima al termopolarizzatore sono questi i nodi questo silenzio è dovuto proprio a questo? Voglio dire che di fronte alla genericità di alcune cose ovviamente non possiamo che pensare che sia una strategia ben riflettuta per allargare al più possibile l'elettorato e l'offerta nel mercato perché altrimenti alcune cose non si spiegano diciamo nel discorso alla direzione di alcune settimane fa Schlein parlava diceva giustamente che era contraria all'autonomia di Calderoli però poi non diceva che cosa vuole fare lei perché c'è un problema in Italia che riguarda i rapporti tra le amministrazioni e certo tra le amministrazioni diciamo tra le regioni e lo Stato centrale parlava molto opportunamente per carità della precarità chi è che non è diciamo chi di noi è favorevole al precariato nel mondo del lavoro però poi non ti diceva come si fa diciamo a tenere a contemplare a tenere insieme le esigenze di flessibilità con lo sviluppo parlava di ambiente ma siamo tutti d'accordo però per esempio su una questione che non è affatto locale ma è nazionale e non riguarda proprio un orizzonte di futuro dell'Italia non sappiamo bene quale sia l'idea sul termovalorizzatore romano insomma voglio dire lo diceva Mario prima ci sono alcune cose sulle quali legittimamente non è che abbiamo capito bene come la pensi Elish Line e quindi viene da pensare che questa sia una strategia intelligente riflettuta consapevole strategia per offrire dare l'impressione di poter allargare al massimo la platea elettorale in attesa delle elezioni europee che Dario Franceschini a quanto mi risulta è convinto che loro potranno addirittura vincere prendendo il 30% in questi giorni Franceschini accetta scommesse con gli amici devo dire che Franceschini noi ci fidiamo assolutamente di Franceschini perché Franceschini le imbrocca le imbrocca sempre tutte tra l'altro lo chiamano la pizza del Nazareno e un motivo ci sarà quindi non abbiamo motivo di dubitare diciamo che lo stupore iniziale quando abbiamo saputo di Franceschini che avrebbe appoggiato insomma Elish Line poi si è consolidato nel dato poi finale della vittoria profetiche diciamo in questo senso non ha mai vinto un congresso in vita sua però è tutto vero quello che dite e in questo Alessandro Sansoni il po' torno al discorso prima legato a Giorgia Meloni e di questo dualismo ne abbiamo molto parlato tra Meloni e Schlein mentre diciamo l'identità della Meloni da questo punto di vista è abbastanza chiara lì è l'Ischlein giustamente per motivare anche le truppe vedete questa è una squadra che può servire per cercare in qualche modo di contrastarla da questo punto di vista l'operazione è anche magari quella di una sorta di svuotamento all'interno del Movimento 5 Stelle per cercare in qualche modo di ingrossare le file e guardare a quell'elettorato lì? In effetti questa sembra la strategia di medio periodo di Elish Line cioè fare il pieno di tutto l'elettorato di sinistra è quello anche che ha trovato nei 5 Stelle un approdo che è anche piuttosto significativo in termini elettorali perché insomma nelle ultime elezioni politiche il risultato dei 5 Stelle è stato sorprendente rispetto a quelle che potevano essere le attese dell'inizio naturalmente non è così semplice l'operazione perché il Movimento 5 Stelle ha una base elettorale meridionale che un personaggio come la Elish Line io non sono sicuro sia in grado di intercettare anche assumendo un profilo diciamo molto barricadero cosa che invece Giuseppe Conte ha interpretato nonostante anche lui non avesse magari il profilo diciamo del percettore del reddito di cittadinanza ma da meridionale aveva la capacità secondo me di toccare le corde giuste di un certo elettorato del Sud Elish Line mi sembra che potrebbe avere qualche difficoltà in più in questo senso e non l'agevola credo nemmeno la guerra che sta intreprendendo con i governatori del PD del Mezzogiorno a cominciare dallo stesso Vincenzo De Luca in Campania non credo che sia una straordinaria idea però mi interessa sottolineare questa allergia alle conferenze stampa che secondo me è una cosa meditata non è prerogativa solo di Elish Line oramai e che però in qualche modo determina una velocizzazione di questo processo della tecnologizzazione diciamo della socializzazione nel senso di utilizzo dei social posso far notare una cosa e di rimbalzo poi lo chiederò anche a Panarari l'utilizzo dei social personali non quelli del partito esatto bravissimo l'utilizzo dei social personali quando si ha magari una funzione sia essa istituzionale oppure sia essa di partito Renzi l'ha inaugurata naturalmente insito nel mezzo voglio dire social insito nel mezzo proprio però è una come dire un cambiamento a cui noi stiamo assistendo della comunicazione politica che in qualche modo è gradito anche a chi la politica la fa perché evita il contraddittorio evita anche il sogno di tutti i politici naturalmente esatto e però come dire siccome è intrinseco al mezzo tecnico e nella logica del mezzo tecnico è una roba pericolosa perché sarà difficile contrastarla una volta che sarà diventata di uso comune condiviso socialmente accettabile già adesso diventa difficile sentire una critica per il fatto che si utilizzano i social per dare delle comunicazioni istituzionali o di linea politica o comunque sia di interesse collettivo e forse come categoria proprio dico giornalisti questa roba la dovrebbero sottolineare un poco di più perché altrimenti diciamo non il precariato ma la disoccupazione ma anche come dire quell'aspetto così positivo per il corretto funzionamento della democrazia nel giro di 4-5 anni ce lo siamo sto facendo un calcolo rapido e sono almeno 5 governi mi ricorda molto Virginia Raggi all'inizio diciamo nella prima fase cioè erano messaggi estremamente sorvegliati circondata da uno staff della comunicazione piuttosto diciamo prevalente sì ma anche prevalente negli orientamenti no Virginia Raggi era un fantasma era invisibile questa perlomeno va nella mia casa si è fatta super giù all'Italia però ha evocato Virginia Raggi una figura che ieri è tornata a parlare e lo ha fatto su uno dei temi che sono di rimenti per quanto riguarda il Partito Democratico non solo il termonializzatore ma le armi all'Ucraina ah come no cioè ieri Virginia Raggi ha aderito a questo a questo referendum contro l'invio di armamenti ci sarà una manifestazione il 22 aprile sarà i banchetti assieme ad altri del Movimento 5 Stelle per raccogliere le firme referendum ovviamente impossibile certo perché poi sappiamo in Italia insomma referendum sono evidente esatto per quanto riguarda non abroga nessuna legge prima di arrivare da Panarari però volevo sentire l'opinione di Simona Maggi se su questo si cerca una nuova linea da parte del Partito Democratico per dare diciamo una svolta alle scelte e penso alla posizione di Enrico Letta su questo tema già durante l'assemblea Elislein aveva parlato aveva tematizzato la pace cosa una parola che era desaparecida in tutta l'epoca comunque la si pensi no di Enrico Letta e questo questa intervista della RAG è interessante perché comunque pone il problema delle alleanze quello che dicevamo prima è evidente che Elislein dovrà venire allo scoperto e decidere con chi vuole allearsi e mi sembra molto più probabile l'ipotesi che apra ai 5 Stelle su queste tematiche su cui è più affine insomma le tematiche green questo che non con il terzo polo ecco però se li vuole svuotare alle europee non si allea diciamo sarà molto competitiva vedremo professor Panarari sì dunque siamo alla vigilia di Pasqua per cui potremmo dire che siamo anche in presenza di una serie di laiche resurrezioni oltre a quella di Virginia Raggi sempre nel mondo grillino come sapete è stata annunciata chat GRG cioè la chat di intelligenza artificiale aspetti Panarari che ci dice adesso Salvatore Merlo come è andata al colloquio perché oggi c'è un lungo articolo di questo faccia a faccia con la chat diciamo chat di Casaleggio esatto in questo senso è legata al personaggio già Roberto che si chiama chat GRC Davide Casaleggio ha lanciato un programma di cosiddetta intelligenza artificiale che simula suo padre quindi siamo a metà siamo nel campo della seduta spiritica in qualche modo quindi attratto da questa notizia ieri sono andato a parlarci con qualche difficoltà perché ha dei tempi di reazione mi ricordo che Gianroberto Casaleggio non era velocissimo nel rispondere alle domande forse è voluta ho chiesto se 2 più 2 fa 4 ci ha messo un minuto e 30 a rispondere questo potrebbe essere anche la connessione al foglio che non sia così veloce no sicuro di no peraltro poi diciamo in questi dialoghi emergono delle posizioni filodraghiane per certi versi e molto filo alleanza con il partito democratico per cui evidentemente l'algoritmo ha bisogno di aggiustamenti tornando però alla questione di Elislein diciamo siamo in presenza di davvero di quell'intreccio che dicevate tra personalizzazione e disintermediazione che è speculare naturalmente a quello di Giorgia Meloni stessa predilezione per il rapporto diretto con l'elettore pensiamo agli appunti di Giorgia stessa possiamo dire allergia rispetto alle conferenze stampa stessa volontà naturalmente di bypassare l'intermediazione giornalistica per rivolgersi direttamente agli elettori e del resto non c'è dubbio che Elislein è una risposta a Giorgia Meloni anche nella direzione di un ipotetico bipolarismo o addirittura bipartitismo come si diceva prima che vuole configurare il campo della sinistra in opposizione ad una destra destra-destra per l'appunto che ha assunto l'egemonia costruendo il destra-centro che ha sostituito il vecchio centro-destra e che quindi dalle parti di Schlein e di molti elettori di sinistra richiede una risposta altrettanto forte diciamo e altrettanto radicale quello che emerge da questa segreteria è che c'è un diciamo il superamento del cencelli delle correnti e questo per un verso naturalmente è un segno di forza ed è un segno molto interessante e c'è una serie come dire una serie di premi e di riconoscimenti ai neo iscritti ovvero a figure che in realtà o diciamo erano già transitate all'interno delle tante evoluzioni del vecchio partito comunista poi diventato PDS e DS ed erano usciti o che gravitavano tra l'articolo 1 e la galassia di partiti partitini e movimenti di sinistra radicale ecco questo significa questo non può essere però professore anche uno scaffo alle sezioni che hanno scelto Bonaccini perché tutte le persone che magari sanno all'interno da anni che fanno politica dentro le vecchie sezioni ormai è uno dei partiti che ha ancora le sezioni precisamente qui ci sono i due nodi questo fa pensare da un lato che Schlein voglia costruire un partito movimento e naturalmente questa segreteria è sua immagine e somiglianza e ha bisogno di nuovi gruppi dirigenti ma dall'altro superare le correnti significa però anche per certi versi limitare molto la militanza e soprattutto non riconoscere davvero quello che è stato il risultato dei gazebo e del voto all'interno delle sezioni nel primo turno diciamo così delle primarie cioè quello che aveva visto per l'appunto gli iscritti militanti di partito maggioritariamente dare il voto a Stefano Bonaccini l'altro elemento e su questo diciamo si può scomodare una figura che Schlein riconosce come importantissima con cui ha dei rapporti diretti quella di Romano Prodi cioè il fatto che se il centro-sinistra vuole vincere oggi stiamo assistendo ad un sinistra-centro cioè ad un rovesciamento esattamente speculare a quello che è avvenuto nell'altro campo deve essere una grande tenda ovvero deve sicuramente e questa è un'operazione che Schlein sta facendo in maniera molto meditata e molto forte deve recuperare tutto quello che si può a sinistra e anche come si diceva prima cercare di lanciare un'opa diciamo così esterna che svuoti in parte il Movimento 5 Stelle ma dall'altro ha bisogno di allargare il più possibile ovvero c'è bisogno davvero di fare un pieno di voti e questo è il grande problema naturalmente del PD che tenga tutto cioè che vada dalla sinistra radicale ai moderati questa operazione è un'operazione difficilissima naturalmente che richiede tutta una serie di trasformazioni che non sono avvenute vediamo quello che succede all'interno del terzo polo ma il profilo che esce della segreteria è piuttosto quello di un partito che in questo momento naturalmente pensa di fare il pieno all'opposizione di nuovo strategia speculare a quella di Giorgia Meloni che magari potrebbe preludere appunto ad un risultato significativo ma oggi potremmo dire che il rischio è più quello di una vocazione minoritaria rispetto a quello di una vocazione maggioritaria oltre al fatto sempre a proposito della discussione che si faceva prima il governismo a tutti i costi ha perso il PD e non lo ha reso competitivo ma non porsi il problema della cultura di governo e della sfida del governo può far perdere dei voti e soprattutto non rende più il PD quel partito di sistema che aveva svolto un ruolo importante dal punto di vista istituzionale in tutta una serie di passaggi chiave critici della nostra storia proprio quella visione di establishment che dicevamo prima del PC 4.0 che è una cosa interessante anche se è una strategia di lungo periodo staremo a vedere io ringrazio Alessandro Sansone ringrazio Salvatore Merlo Simona Maggiorelli Mario Lavia il professor Panarari vedo collegato Gabriele Cirilli buongiorno attore showman buongiorno buongiorno Gabriele buongiorno se vuoi ti interroghiamo sulla politica però noi ci vediamo stamattina per altri temi perché vogliamo parlare con lui di Amref e di Africa a rientro dalla pubblicità pochi minuti e torniamo in diretta la farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano la siccità il tuo bestiame senza cibo né acqua devi migrare lontano la fame non è un gioco aiutaci contrastiamo la crisi alimentare in Africa manda subito un sms dona ora al 45537 la fame non è un gioco non è un gioco e allora questo è lo spot per la raccolta delle firme come vedete alle mie spalle 45537 per dare ad Amref un aiuto nella campagna la fame non è un gioco e do di nuovo il buongiorno a Gabriele Cirilli che è qui con noi buongiorno a voi buongiorno Gabriele allora ti abbiamo visto in questo spot con Fiorella Mannoia con l'ex campione di rugby Martin Castro Giovanni con Gigio Alberti per una campagna dove nella tua parte insomma si parla della farfalla che quelli bravi chiamano il butterfly effect ovvero la possibilità che è una cosa che capita magari in Nuova Zelanda degli effetti catastrofici poi in un continente come l'Africa che vive un periodo molto molto complicato complicato sì io intanto ci tengo a dire grazie proprio all'AMREF per quello che fa non c'è bisogno di presentarla questa organizzazione però è sempre meglio ribadire chi è e che cosa fa l'AMREF che è un'organizzazione sanitaria molto importante e africana completamente africana che agisce appunto su 35 paesi sud Sahara e questa campagna dedicano uno slogan importante io ci tengo a dire che la fame non è un gioco perché poi quelli che ci rimettono di più sono i bambini e l'AMREF con questa campagna sta cercando appunto di combattere una delle più gravi credetemi crisi alimentari degli ultimi 40 anni che è dovuta chiaramente alla siccità ma non solo anche a tutto quello che sta accadendo adesso nel mondo rincaro prezzi dovuto alla guerra dovuto alla pandemia covid non scordiamocelo questa campagna è rivolta soprattutto al Burkina Faso al Sudan sud 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 l'Etiopia il Burkina Faso è una regione a cui tiene molto l'AMREF perché grazie alla donazione l'hai detto benissimo ti do del tu perché insomma potresti essere mio fratello minore va benissimo però l'hai detto benissimo 4 5 5 3 7 attraverso questa donazione 2 euro per sms e 5 euro per la chiamata noi possiamo veramente risolvere un problema gravissimo pensa che ci sono 140 si stima che ci sono 140 milioni di persone che stanno soffrendo la fame e c'è una cosa che mi preoccupa tantissimo che si stima che entro il 2030 630 milioni di persone nel mondo chiaramente soffriranno la fame e noi dobbiamo impedirlo abbiamo il dovere di impedire questa cosa qui perché tutti hanno il diritto di mangiare tutti allora ricordiamo che l'AMF garantisce acqua pulita cure mediche cibo formazione sensibilazione a 60 milioni di persone all'anno in più 30 paesi dell'Africa faceva riempimento al Burkino Faso e al Sud Sudan tutte le zone semidesertiche dell'Etiopia e del Kenya scusa voglio essere più preciso potranno dare cibo alle menze scolastiche aiutare il sistema idrico pozzi per abbeverare il bestiame che sono le cose fondamentali per portare avanti una nazione una regione che ha bisogno senti ti faccio una domanda tu da esterno che appunto adesso ti sei fatto la tua voce insomma corpo di questa campagna pensi che la politica il dibattito politico in Italia in questo paese sia molto lontano da questi temi perché poi parlando diciamo con la gente comune la preoccupazione è di tutti per il momento che stiamo vivendo in questo momento però c'è una partecipazione anche molto forte nei confronti di quei paesi dell'Africa non fosse altro perché i migranti che noi abbiamo alle porte o che abbiamo a casa nostra vengono da lì proprio perché ci sono i problemi che abbiamo elencato sopra esattamente io conto molto credimi che conto molto nelle istituzioni ma conto molto nelle persone nell'umanità delle persone perché ho imparato facendo questo lavoro soprattutto dedicandomi al teatro che la gente in realtà è buona va solo istruita cioè bisogna far capire alle persone che non si limita il problema solo come dicevo della farfalla tanto io vivo qui chi se ne frega dell'Africa no perché poi i problemi che si presentano in Africa prima o poi si rappresenteranno anche dove viviamo noi e le persone sono buone io sono sicuro che insieme tutti insieme riusciremo a fare qualcosina lo so può sembrare un luogo comune io lo so che voi parlate di argomenti più importanti però io rimango molto attaccato alla gente quando vado a teatro sento che le persone mi chiedono come possiamo aiutarti perché non solo per l'AMREF io cerco di mettere a disposizione la mia immagine ho avuto questa fortuna di diventare abbastanza popolare quindi è giusto mettere a disposizione di chi ha bisogno ti posso assicurare insomma che temi così importanti come appunto fame e carestia c'è bisogno di parlarne ed è davvero determinante e grazie a te grazie all'AMREF che ci dai questa opportunità io ripeterei l'SMS allora 4 5 5 3 7 è fondamentale donare per poter veramente aiutare le persone che hanno bisogno io vi prego fatelo perché e non è una preghiera così gratuita è una preghiera che viene dal cuore credetemi io ho avuto una mamma adesso non ce l'ho più che si è data al 360 gradi per le persone e mi ha insegnato che bisogna essere vicini alle persone che hanno bisogno io ringrazio Gabriele Cirilli grazie ringrazio grazie a voi per questa grande possibilità grazie è arrivato proprio in chiusura del dibattio di Obribus anche la condanna da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sull'attentato in Israele che vi ricordo ha visto la vittima un italiano Alessandro Parini un avvocato romano di 35 anni esecrazione per il vile attentato vi ho dato la notizia per quanto riguarda invece l'identità dell'attentatore ricordiamo l'attentatore che ha lanciato una macchina contro la folla piena di turisti tra questi anche due italiani che al momento che sono in fin di vita e anche dei britannici vedremo nel corso delle prossime edizioni del telegiornale se ci saranno degli aggiornamenti io vi ringrazio l'appuntamento con Omnibus è per domani con Frediano Finucci non mi rimane altro che da parte mia augurarvi buon sabato e buona Pasqua grazie buona giornata grazie a tutti grazie a tutti